Oggi ragazzi parliamo di dissipatori e parliamo dell'Arctic Liquid Freezer 3, versione A240 e White. Dissipatore che è una novità, sì, ma mantiene un sacco di filosofie del vecchio Liquid Freezer 2, ovvero, per esempio, la ventolina sui VRM, oppure, per quanto riguarda il radiatore, un radiatore molto spesso rispetto alla concorrenza, tutto un po' ritoccato per avere un'estetica accattivante grazie agli RGB, sia sulla pompa che sulle ventole, eccetera, eccetera, eccetera. No, vediamo un po' come va però in performance rispetto ad altri dissipatori. Non ho il vecchio Liquid Freezer, è interessante magari fare un confronto, ma non ce l'ho. Quindi, niente, maggiori dettagli a riguardo dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e con la introduzione. Oggi parliamo di nuovo dei dissipatori, parliamo del Liquid Freezer 3 di Arctic. Il Liquid Freezer 2 è andato no benone come dissipatore di più, ovviamente avrà bisogno di un upgrade, più che altro in termini estetici, perché poi in performance c'era poco da dirgli. Il punto è che era un po' bruttino, un po' industrial più che altro. Invece qui abbiamo un cambio di rotto da quel punto di vista, Arctic si sta buttando un po' sull'estetica, un po' come il mercato richiede, no? Quindi, ecco, dissipatore bianco e ventole RGB, pompa RGB. Però mantenendo delle sue filosofie. Come vi ho detto nella intro, per esempio, non abbandoniamo la ventola sui VRM, non abbandoniamo nemmeno un creatatore molto spesso stile custom loop, che anzi può dare qualche rogna in base al case che avete, e altre chicche ne aggiungiamo invece di nuove, per esempio. E in confezione già ci sta un frame per l'installazione su Intel. Ma insomma, cerchiamo di sviscere ai vari dettagli, lo vediamo un attimo con l'unboxing, lo montiamo su una test bench Intel, facciamo dei test, di confronto anche con altri dissipatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di attaccare, ragazzi, ovviamente vi invito a iscrivervi al canale. E bottoncione rossa è gratuito, mi raccomando, lasciate anche un like, un commentino. Giù in descrizione vai i link per acquistare. Il dissipatore che vi ricordo che è in promo speciale fino a maggio, non ricordo quale data, mi pare più o meno verso il 20 maggio, una cosa del genere. E infatti ve lo potete portare a casa a un prezzone, circa 75€ per quanto riguarda questa versione. Ci sta anche altre versioni, come per esempio quella nera, senza l'RGB a 65. Il prezzo lieviterà parecchio nel momento in cui finire la promozione. Si parla di più di 100€ per questo da 2,40. Oltre a questo, giù in descrizione, canale Telegram di offerte, chat di gruppo, insomma, solita, solfa. E niente, prendiamo e attacchiamo e partiamo dall'unboxing come tutti i dissipatori. Vediamo un po' come variva a casa. Scatolina carina ragazzi, curata bianca perché ho il sample della versione bianca. Però effettivamente c'è anche la scatolina nera nel caso del nero. Dal davanti già vediamo che ha 6 anni di garanzia, un bel upgrade rispetto al vecchio Arctic Hybrid Freezer. E abbiamo pasta termica MX-6 a bordo che non è per niente male. Nella parte posteriore della scatola ovviamente varie informazioni su specifiche tecniche del vento, la pompa e quant'altro. Aprendo la scatola la prima cosa che notiamo è subito una crocchetto bianco, che sembra quasi una ventola, potete? Ma che è? Molò vediamo. Partiamo dalla scatolina laterale dove ci stanno ovviamente i vari kit di montaggio, accessori vari, compresi anche dei cavi da collegare alla pompa per poi, ecco, attaccare il pump fan, il fan, anche il VRM fan, chiamiamolo un po' così. Ma ne parliamo dopo perché poi nell'assemblaggio capirete che ci stanno due cavi e uno può gestirselo un po' come vuole. Oltre a questo, nella confezione vedete sto coso bianco dove ci sta appunto una sorta di ventola, che in realtà una ventola non è perché è sì la pompa, diciamo, la parte davanti della pompa che ha dentro la ventolina di VRM, ma effettivamente ecco, esteticamente sembra quasi una ventola stessa da fuori, ma non lo è, la ventola sta dentro. Una bella patacca, bello grosso come cosino tondo e magnetico perché poi sulla pompa si attacca in maniera magnetica e la ventola di VRM effettivamente non c'ha nessun cavo perché appunto anche esso si collega in maniera un po' particolare. A fianco vedete sempre su sta ciotolina bianca, diciamo, sto porta ova e la pompa. Pompa che ovviamente è già coi tubi attaccata perché è un aio, ragazzi. Al radiatore, ventole, ventole già montate e mettiamole un attimo da parte, ci parliamo tra poco di tutto quanto. Sotto c'è stata un'altra scatolina che è un accessorio interessantissimo, soprattutto a me che devo montarlo su Intel, ragazzi, ovvero il contact frame. Perché su Intel, ragazzi, questo dissipatore, come anche il Freezer 36, ragazzi, non potete montarlo se non con il frame. È suo, ok? Frame che richiede un po' più di esperienza, tra virgolette, nel montarlo perché... Comunque dovete smontare quello, diciamo, originale della scheda madre e mettere questo. Se c'avete un frame alternativo che non è già quello della scheda madre, comunque è più o meno la stessa pappa. Ma ne parliamo meglio durante il montaggio. Tornando un attimo a... Ok, abbiamo analizzato la parte quella sopra la pompa. La pompa effettiva, la vedete che è smontata perché manca la parte sopra, appunto, che è quella che abbiamo analizzato prima. Pompa dove vedete tutti i fili saldati, vai pin a destra e manca perché, appunto, c'ha i vari collegamenti sia per mettere, diciamo, la parte della ventola e probleme, ma soprattutto c'ha anche uno slot laterale che è una presa dove potete mettere i caretti perché abbiamo doppia scelta. Se vi ricordate il Liquid Freezer 2 potrete attaccare un solo cavo perché effettivamente i cavi camminano dentro ai tubi del radiatore, viene collegato tutto insieme e tira fuori un cavo soltanto per gestire pompa e la ventolina del VRM e anche le ventole del dissipatore stesso. Quindi se volevi regolare un al 100% e un al 10 RPM non potevi. Quindi che ha fatto Arctic? In questo modello nuovo ha messo due cavi. Uno, se vuole gestire tutto insieme, c'è un cavo specifico che ti ha fuori un solo cavo. Se no, ce ne stanno tre. Uno per la ventola di VRM, uno per la ventola delle ventole e una per la presa della pump, diciamo, della pompa. Per quanto riguarda il plate dietro, la contatto col processore è molto piccolina, molto carinello. In realtà anche la pompa con tutta sta cosa smontata sembra quasi inesistente. Tubi, ragazzi, che sono slivati, strani, non sembrano tubi normali perché effettivamente il tubo sta dentro. Fuori c'è uno sleeve protettore che c'ha i cavi che camminano dentro, i cavi delle ventole. Ci stanno delle prolunghe che arrivano in maniera tale che poi voi attaccate. Un solo cavo, tre, se volete appunto il triplo attacco. Io personalmente ho usato il triplo perché mi serviva a regolare un attimo in maniera capillare, ventola, pompa, eccetera. Passiamo al radiatore che è una delle chicche di questo dissipatore, ovvero è un radiatore un po' particolare più che altro in termini di altezza. Abbiamo 38 mm di radiatore invece dei soliti 27, quindi un centimetro più alto che può portare qualche grattacapo su case un po' più piccolini o soprattutto quelli che hanno una slitta un po' troppo verso l'interno e quindi vanno a sbattere contro, non so, i dissipatori della scheda madre, delle RAM, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un po' un grattacapo ogni volta capire se è compatibile o meno. Però un radiatore del genere sicuramente può tornare utile più che altro per le performance, come fisica insomma. POMPA che prima non vi ho citato, comunque arriva fino a 2800 RPM, le ventole sono delle P12 RGB, PWM, PST, quelle sdoppiabili sia gli RGB sia appunto i PWM che hanno 2000 RPM, più o meno poi 1900, se andate a vedere la media dai vari test. Ventole molto interessanti e già le abbiamo portate sul canale, abbiamo fatto un video dedicato circa due anni fa, se non sbaglio. Abbiamo comunque 48 CFM, 82 m3 l'ora e circa due di pressione statica, 1.85 è una cosa del genere. Ventole interessanti anche per un altro fattore perché hanno la modalità 0 dB. Se andate sotto al 5% dei PWM stanno ferme, ok? Molto comodo. Soprattutto sono dissipatori al liquido che effettivamente il liquido in idle può fare tanto, ok? E le ventole servono quando dovete cacciar via il calore. Se sta a 30-40 gradi il processore, insomma, le ventole servono o non servono. Questo per quanto riguarda le caratteristiche. Passiamo al montaggio, ragazzi, perché qui c'è da chiacchierare un attimo. Insieme, montaggio, io personalmente ho la test bench con Intel quindi l'ho provato su Intel. Montaggio di AMD più o meno su M5, ragazzi, M4 e M5. È un montaggio classico. Mentre per quanto riguarda Intel c'è il montaggio col frame che secondo me richiede un minimo di esperienza in più. Soprattutto perché fa i danni nel momento in cui andate a smontare diciamo il frame originale della Mobbo e lo sportellino del socket. Insomma, non è che sia proprio così soft. Se per caso poi avete già un frame in realtà è un po' più semplice perché togliete quello, mettete quello, l'avete risolto. Cosa importante è che lo richiede subito Arctic durante il manuale di montaggio. Se avete la scheda madre sul tavolo benissimo non dovete fare niente ma se ce l'avete già montato su un case o comunque io nel dubbio ce lo metterei uguale. La scheda madre, lo sportellino diciamo solito del socket c'ha una piastra dietro dove ci stanno le quattro viti. Ecco, metteteci due pezzetti di scotch per non farlo muovere. Scotch e carta magari, così. Quelli soft, quelli che non strappano via manco la vernice. Uno scotch e carta abbastanza blando. Ce lo mettete in maniera tale e quella parte rimane ferma perché poi quando andate a smontare il socket davanti, il socket, nello sportellino del socket e quello se no casca e se casca poi lo ammazzate perché dovete tenere il processore e quello insieme. Il processore nel mente oltretutto ragazzi ricordatevi a tenerlo dentro sopra il socket perché se no ve li trovate sto socket qui pinna all'aria e voi che state a smanetta a fianco non è cosa molto gradita. Quindi piazzate il processore e poi fate tutto. Il resto è importante però sto scotch dietro così non ve lo scordate. Ve lo piazzate lì e poi quello che dovete fare è smontare lo sportellino originale. Io nel mio caso avevo già un frame quindi ho smontato il frame e ho messo questo di Arctic che ha già delle alette laterali dove avete due viti che c'è andata a firmare la vostra pompa. Non dovete fare nient'altro una volta che avete montato il frame avete tutto a disposizione per già montare il dissipatore. Le viti poi già stanno sulla pompa quindi zero. Cioè il frame è il kit di montaggio avete risolto. Mentre su M5 e M4 è un kit diciamo un po' più tradizionale. Quindi voto super semplice se sarete dei smanettoni lo trovate quasi più easy di un kit normale ma poi se non siete invece esperti potrebbe portarvi qualche grattacapo. Quindi fate attenzione soprattutto magari ecco piazzate lo scotch per sicurezza sulla parte laterale della MOBO e fate attenzione a mettere il processore prima di fare tutti i lavori. Passiamo alle performance ragazzi e lo sapete la M3 ha tanti dissipatori ci focalizzeremo più che altro su 3-4 dissipatori ma insomma poi nei grafici li vedete quasi tutti qualcuno lo tolgo più che altro perché sennò stiamo un po' troppo stretti ci sarà un Endorphia da 280 da 360 ci sarà i vari Termalite ma soprattutto ci focalizziamo un attimo su Warframe che è quello un po' più vicino anche in termini di prezzo e ci sarà dissipatori ad aia prendiamo come riferimento il Noctone HD15 che è un top di gamma costa 120 euro e passa quindi prendiamo lui come target. soliti test ragazzi sulla test bench che vi ho detto è su Intel 13600KF Z790 Taiki Lite RAM che non servono a niente in questo caso però DDR5 perché può tornare utile per quanto scalda il processore 6000 CL32 e niente test AIDA64 e Cinebench R23 100% delle ventole 1000 RPM sti test fatti per 30 minuti nel caso di AIDA e 10 minuti nel caso di E Cinebench R23 questi test usati però ragazzi voglio anche dirvi che il processore ha un profilo di overclock ovvero sta a 5.4 GHz sui P-Core gli A-Core a 4.1 GHz tensione bella altina per farlo consumare un pochino 1.275 Volt sta di fatto che con questo profilo l'E5 scalda davvero tanto soprattutto in carichi lunghi fissi tipo AIDA in realtà su Cinebench vediamo che il consumo è più o meno lo stesso 165 W ma scalda molto meno perché ogni tanto si stacca riposa anche se solo 3 secondi però riesce a fare anche 10-12 gradi di meno in un ciclo in quel modo al contrario con uno stress test come AIDA FPU sempre gli ammartellare fa un po' di fatica ma qualsiasi dissipatore voi dite ah i Mi-5 insomma penso che un i7 senza overclock scaldi meno di questo come un i7 con l'overclock scalda comunque tanto cioè gli Intel e i Sokadi scaldano davvero tanto per quanto riguarda i test parliamo di numeri e considerate e vi dico le temperature di un 360 tipo il Warframe che su AIDA64 al 100% dell'evento le fa circa 78 gradi e ne fa 83 mettendolo a 1000 RPM un Endorphi da 280 fa 82 87 ok quindi già un 4 gradi in più il nostro Liquid Freezer quanto fa? 84 91 91 perché ragazzi sto facendo caso che Quintel quando c'è tanto calore da andare ecco un 240 fa davvero fatica a cacciar via tutta la caralda che ci sta mentre ecco già al 280 al 360 vediamo per esempio Endorphi riescono a tenere 87-88 gradi quindi 3-4 gradi di meno con le ventole a 1000 RPM quindi molto lente ok perché saranno anche molto lente ma se c'hai più spazio nel radiatore riesci a cacciar via più aria in fretta se c'hai 3 ventole da 120 o 2 insomma la differenza ci sta se prendiamo il Noctua NH-D15 che è ad aria ed è comunque un tab di gamma fa 88 gradi e comunque 91 quindi vedete che effettivamente poi quando si rallenta devo dire il Noctua si comporta comunque bene perché guaglia questo 240 che comunque vi ricordo che ad oggi costa 75 euro circa su Cinebench R23 vedete come si abbassa di 10 gradi le temperature 10 gradi 7, 8 no dipende dal dissipatore considerate che un Warframe fa di Thermalight che è un 360 comunque abbiamo visto che performa davvero bene il prisma fa anche 2-3 gradi meglio è quelli che fa 71 gradi su Cinebench R23 al 100% 1000 RPM fa 75 gradi un Endorphi da 280-360 più o meno performano uguali 75 gradi e 78 il Noctua 79-83 e il nostro Arctic fa 76-82 quindi vediamo che comunque al 100% dell'Eventory lavora meglio di un Noctua NH di 15 molto vicino a un Endorphi 280-360 ma in realtà l'Endorphi anche un 240 più o meno stanno quasi tutti molto vicini e il Warframe fa 71 gradi comunque 4-5 gradi meglio ma è un 360 quindi diciamo che in performance mi aspettavo qualcosina in più però effettivamente non è niente di eccezionale sono ottime temperature comunque per un 240 ma comunque ti va come un 280 di Endorphi quasi quanto un 360 di Endorphi 3-4 gradi peggio di un Thermalite a 360 va come un 8 NH di 15 comunque un bel andare però effettivamente con questo gradatore così bello grande comunque porta qualche rogna e mi aspettavo qualcosina di più in termini di performance anche da un 240 curioso di provare il 360 che dirvi ragazzi tante chiacchiere ho parlato del montaggio dell'unboxing dei test ma effettivamente eccomi qui nelle conclusion per dirvi se ne vale la pena non ne vale la pena beh che dirvi allora avete visto nei test effettivamente comunque per esempio da un Thermalite a 360 si prende 4-5 gradi che sia 100% 1000 RPM 1000 RPM fa meno testo ok perché comunque sui raditori a 240 contro un 360 le ventole girano lente ma c'hai molta più e aria da cacciare via ok anche con la terza ventola o che sia anche un 280 vediamo per esempio l'Endorphi da 280 il punto secondo me è un altro Arctic ha una qualità costruttiva ragazzi rispetto agli altri dissipatori che sia quello di Endorphi ma anche Thermalite molto più elevata e abbiamo delle chicche interessanti come la ventola sui VRM io non mi sono messo a fare test più che altro perché ecco poi quei sensori eccetera non fai mai test precisi comunque se andate a trovare non lo so recensione di Gamers Nexus vedete effettivamente che quella ventola fa comodo molto nel momento in cui avete un processore che scalda e fa lavorare una MOBO parecchio tipo un i9 14900K ma poi la qualità costruttiva ragazzi è davvero eccelsa le ventole le P12 RGB sono molto silenziose al 100% ovviamente si fanno sentire rispetto ad altre fanno 2000rpm ma sembra che ne stanno a fa 1500 ok l'unica cosa un po' scomodina per virgolette è il montaggio su Intel secondo me perché è un po' più da esperti e il radiatore che essendo da quel centimetro e passa più alto rispetto ad altri fa un po' l'eccezione quando sono eccezioni è quelli che i case magari dal 100% dei case compatibili diventano il 50 40 perché poi bisogna stare attenti con la scheda madre RAM e potrebbe essere un motivo che spinge a uno a non lo prendo l'Arctic perché so che ho rotture di zamammari soprattutto nel momento in cui le performance comunque sono buone ovviamente ma non sono stellai c'è da dire ragazzi che secondo me stiamo arrivando a un punto che montare un dissipatore su Intel su AMD su socket diversi su MOBO diverse ecco le variabili sono così tante prendiamo per esempio i test fatti non ricordo se Game of Nexus o hardware a boxed sulla pressione che fanno i vari dissipatori il plate sul processore cambia da troppe variabili ad oggi quindi possibile che lo montate su M4 e questo dissipatore rende male lo montate su Intel magari rende meglio perché comunque il frame ce l'abbiamo montate su M5 rende da dio ok quindi cioè ci stanno troppe variabili per dire è un buon dissipatore o meno dai miei test vi posso dire che comunque è un ottimo dissipatore si comporta bene c'è un sacco di chicche ma mi aspettavo qualcosina di più diciamo da questo Arctic anche se è un 2,40 non mi dico che andava come un 360 ottimo come quelli di Temeret che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo ma che comunque ci si avvicinasse un pochino di più comunque parliamo di 5 gradi di più e 6 gradi ne parliamo di tanto però ecco sono rimasto un pochino così però le chicche sono tante la qualità costruttiva è molto elevata e fino a che sta al prezzo promo 76,99 il 2,40 bianco e pure RGB davvero niente male i prezzi si alzeranno parecchio dal 20 maggio in poi perché questa arriverà tipo a 115 euro ma anche i 360 andranno a 130 140 euro ad oggi stanno a 80 90 euro che devi ragazzi fatemi sapere che ne pensate di questo dissipatore nei commenti ci tengo a ringraziare Arctic per il sample e anzi sta arrivando il video anche sul freezer 36 che è il nuovo dissipatore ad Aya che va al posto del 33-34 i 35 quelli che c'è stavano insomma i 35 e niente ci tengo ovviamente a ringraziarvi se siete arrivati fino a questo punto del video like commentino un saluto al vostro Davide dal piccolo baby yodo con la testa fluttuante e ci si vedo ad un prossimo video ciao